Perché alcuni errori li abbiamo fatti, parliamoci chiaro, le faccio un esempio, l'ho detto a Speranza. Poi voglio rispondere a Gallimberti sui prof, ma per finire su Speranza, noi abbiamo perso un mese sulla terza dose. Perché se noi avessimo accelerato sulla terza dose... Non siamo partiti prima, potremmo partire a settembre. Eh capito, dovevamo non chiudere gli avvi. Oggi noi siamo a 700 mila, a me piacciono i numeri, siamo a 700 mila vaccini al giorno. È un grande risultato. Dovevamo esserci un mese fa, perché avremmo avuto minori contagi. Detto questo però... Quando c'erano 16 milioni di persone che potevano essere... Esattamente. Però detto questo, diciamo anche le cose come stanno. Chi si vaccina sa che forse non è un raffreddore il Covid, ma chi si vaccina sa che per i vaccinati non è certo più il Covid del 2020. Ecco, ma perché si fa fatica culturalmente a fare questo tipo di approccio? Perché è così complicato? Parlano troppe persone. Ogni giorno, anche dare ogni giorno i bollettini. Io la penso come Bassetti su questo. Non crede che crea una sorta di... A ragione lei. Di ansia, di tensione. Poi, ad esempio, si contano il numero dei contagiati e non le terapie intensive. Cioè, quando io dico che nel marzo 2020 eravamo a 4 mila, noi avevamo 5 mila posti in terapia intensiva e 4 mila erano occupati. Cioè, l'80% eravamo sull'orlo veramente del baratro. Oggi noi siamo a 1.600 su 10 mila posti in terapia intensiva. Cioè, abbiamo il 16%, 17% di terapie intensive occupate. È tutta un'altra cosa. Detto questo... Ma lei non crede che si dovrebbero fare anche dei provvedimenti di tipo Austria, eccetera, dove chi libero di scegliere, per carità, non si è vaccinato, sta chiuso in un lockdown temporaneo di un mese per vedere che diavolo succede? Non vogliono il Green Pass, prendono il Black Pass, quello nero, stanno a casa. Ecco, vorrei capire. Io non avrei dubbi su questo. Non si potrebbe arrivare questo? Lei esclude che si possa arrivare? Non so se è utile o no, stanno valutando i tecnici, ma se lei mi dice giusto... Ma si sta pensando? Io credo che in questo momento si stia ormai arrivando all'immunità di Greggia. Lei prenda quello che ha detto Anthony Fauci, che è il numero uno, il consigliere di Biden alla Casa Bianca, ma anche quello che sta avvenendo in Israele, dove hanno iniziato a riaprire. Io sono sempre dell'idea che bisogna copiare Israele, che sono i più bravi di tutti. Insomma, alla fine ci stiamo lentamente... Quindi non c'è previsione di un ipotetico Black? Non glielo so dire. Io so che a domanda, a dicembre scorso, io sono stato uno di quelli che ha detto lockdown per i Novak. No, perché noi siamo in crisi su questa terapia e per questa situazione. C'è qualcuno che dice che nelle terapie intensive bisognerebbe dare la precedenza ai vaccinati e ai Novak, modificando il codice etico. Perché se io scientemente non mi vaccino, non soltanto rischio di farmi del male, ma faccio un danno anche a te che magari hai un problema di natura oncologica. Io rimango appunto, perché quello che è scandaloso è che tutto il resto viene bloccato. Questo è il punto. Questo è un punto molto grave.